Fiat 124 Sport Spider. Prodotta dal 1966 al 1985, si tratta di una sportiva della casa torinese piena di tocchi di classe per chi li sa cogliere. Disegnata da Tom Jarada per pini in farina, si tratta di una Spider realizzata sul telaio accorciato della Fiat 124. Nasceva con un motore raffinatissimo, un bialbero da poco più di 1400 cm3 di cilindrata, con carburatore doppio corpo. Oh, era piccolo ma era meglio di un orologio svizzero, 90 cavalli e 170 km all'ora di velocità di punta. Non male. Oggi sembrano prestazioni ridicole ma siamo a metà degli anni 60 e non ce lo dimentichiamo. Altra particolarità di questa spiderina italiana era il layout, ovvero motore davanti ma trazione di dietro. Fu equipaggiata anche con un motore Abarth e andò a fare anche qualche gara. Nessun risultato strabiliante ma ha saputo difendersi bene. Negli ultimi anni di produzione fu dismessa da Fiat e fu prodotta direttamente da pini in farina. Che bella Chiara, a me piace ancora un sacco. E tu la conoscevi?